ciao ragazzi eccoci qua per la riflessione sul vangelo della tredicesima domenica del tempo ordinario del 26 giugno è un vangelo è una pagina veramente decisiva nel vangelo di luca perché il vangelo di luca è un vangelo on the road sulla strada ed è proprio in questo momento in cui da qui in poi gesù sarà sempre solo sulla strada è la strada verso gerusalemme mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto espressione molto interessante assunto elevato elevato in alto era un modo per dire salire verso gerusalemme da qualunque parte della terra santa tu voglia andare a gerusalemme devi sempre salire quindi si parla di salire a gerusalemme si parla ovviamente di quella salita che poi culminerà con la salita al cielo con l'assunzione al cielo si tratterà di salire sulla croce quindi questo questo essere elevato in alto può voler dire tante cose ma soprattutto prese la ferma decisione di mettersi in cammino gesù è il grande camminatore non è un cammino solo geografico evidentemente da dalla galilea dal nord verso il sud verso gerusalemme è un cammino soprattutto teologico cioè la meta l'orientamento il senso di tutta la vita di tutto il cammino di gesù sulla terra è proprio la pasqua è proprio gerusalemme il mistero pasquale di morte e resurrezione ascensione e dono dello spirito quindi questo questa decisione ferma letteralmente il vangelo dice indurì la sua faccia che un'espressione è molto ebraica per dire ecco appunto prese la ferma decisione si diresse senza più come dire ripensamenti ecco a proposito di senza più ripensamenti quello che segue già fa capire come va a finire infatti i samaritani non lo accolgono perché va a gerusalemme si sa che i samaritani erano ci sono ancora tra l'altro un gruppo eretico tra virgolette considerato scismatico dall'ebraismo ufficiale e quindi non lo accolgono perché vedono che lui sta andando appunto verso gerusalemme verso il tempio di gerusalemme non verso il tempio del monte garizim che era il tempio dei samaritani e questo già fa capire come va a finire la strada di gesù fin dall'inizio no cioè andrà a finire con un rifiuto i discepoli che non hanno capito manco loro però il senso della strada di gesù dicono simpaticamente no diciamo che scende un bel fuoco dal cielo e li bruciamo tutti così imparano a rifiutarci non hanno capito che gesù non è così che gesù mette in conto il rifiuto lo sa che può essere rifiutato lo sa come andrà a finire e che anche il discepolo è chiamato sulla stessa strada seguire gesù vuol dire prendere la strada della croce anche del rifiuto anche della fatica seguire gesù lo diranno i tre incontri subito seguenti seguire gesù vuol dire essere gente che non ha più delle sicurezze assolute ma neanche economiche gli uccelli del cielo hanno i loro nidi e le volpi le loro tane ma invece chi segue gesù è precario è precario nella vita è precario nelle sue sicurezze spirituali morali materiali perché perché sta seguendo gesù perché gesù è così è il povero che non ha altra sicurezza che dio che la sua provvidenza che è la sua luce chi segue gesù deve essere capace di metterlo davvero al primo posto prima anche degli affetti più cari prima dei familiari chiaro che qui gesù non vuol dire che non dobbiamo seppellire i morti ma vuol dire che la chiamata a seguirlo è più forte è più radicale degli stessi legami familiari è più grande e chiede di più perché volare dietro a lui diciamo così vuol dire che ti devi staccare da tutti quei legami che invece ti impediscono di volare anche dal passato chi mette mano alla ratole si volta indietro dai rimpianti dai sensi di colpa da da quei legami che non ci fanno bene ecco chiaramente i nostri legami familiari ci fanno bene ma quando il legame familiare diventa un ostacolo alla sequela di cristo alla costruzione del regno allora anche quel legame lì va tagliato va liberato meglio va vissuto con più libertà chiediamo al signore che ci aiuti a camminare dietro a lui sentiamo che le esigenze di seguirlo su quella strada sono forti sono grosse sono radicali ma questa è anche la bellezza del vangelo cerchiamo di tenere il passo dietro a gesù giorno per giorno buona domenica ragazzi